dobbiamo calibrare la matrice di rilevamento della tua tuta per cominciare guarda l'olo bersaglio alla tua sinistra voltati verso l'olo bersaglio alla tua destra e sparagli bene ora colpisci l'olo bersaglio sopra di te bene ratchet i tuoi circuiti di movimento ora dovrebbero funzionare prova a raggiungere la cima della sporgenza sto inviando una mini mappa digitale che riproduce la zona la vedi la mini mappa ti indica la posizione dei nemici nei paraggi rilevo altri tre olo bersagli nelle vicinanze bene ratchet ci dovrebbe essere un teletrasporto poco lontano che ti porterà al prossimo livello del percorso di qualifica grazie 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 on trovato un modo di mandarti delle informazioni senza che Vox lo scopra. Fai attenzione ai messaggi segreti nella parte bassa dello schermo. Nella parte alta dello schermo c'è la barra dell'esperienza. Quando elimini i nemici guadagni esperienza. Quando la barra è piena sali di un livello e la tua nanotecnologia aumenta. Tieni premuto il tasto R2 o il tasto triangolo e usa una delle levette analogiche per selezionare un'arma. Ti faccio notare il collare letale fissato stretto stretto al tuo collo. Questo collare non può essere distrutto né rimosso. Se andrai a ficcare il naso in un'area riservata, il collare ti darà una scossa elettrica estremamente dolorosa. Guarda! Odio questo lavoro. Se uno dei combattenti si rifiuterà di collaborare o peggio, risulterà noioso, potrò far esplodere il suo bel collare semplicemente premendo un pulsante. Ma io ti ho avvisato. Non vale la pena perdere la testa. Giusto? Premi due volte il tasto R2 per alternare gli ultimi oggetti usati. Congratulazioni, Ratchet! Hai superato il percorso di qualificazione. Controlla la tua mappa. Dovrebbe esserci un teletrasporto nelle vicinanze. Utilizzalo per raggiungermi nella zona di contenimento di Dreadzone. Wow! Questo posto è pazzesco! Mi sono sempre chiesto come se la passano i gladi... Benvenuto nei tuoi nuovi alloggi, eroe. La tua elegante suite di contenimento è equipaggiata con tutto ciò che serve al concorrente di Dreadzone. Mettiti a cuoccio. Probabilmente trascorrerai qui il resto della tua vita. Ratchet, dovresti andare a trovare Al. Ho indicato la sua posizione sulla tua mappa. Penso che abbia qualcosa da farti vedere.